8.000 di volte, volte E' più duro E ciao a tutti ragazzi Quest'oggi, come potete vedere Ci troviamo nuovamente su The Amazing Spider-Man Allora Siamo lasciati nello scorso episodio Più o meno qua, ok? Allora Dovremmo andare a casa a guardare Il costume nuovo Perché sinceramente ho una voglia matta Di vedere che costume è Quindi Mentre gireremo a caso Più o meno qua Gireremo, sì, più o meno a caso RB a fare il civile Dove è? Eccolo qua, salve Sì, sì, non apre il cazzo Allora, soccorriamo i civili Poi andando a caso vedremo se troviamo Il coso Del costume Perché voglio assaggiare Vedere sto costume nuovo Raga, seriamente Ne ho bisogno Cioè, finalmente ne ho sbloccato uno Incredibile Oh, ci sono due cose Sì Cucci Spero che serva Ovviamente Oh, foto Oh, foto 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 Oramai fare le foto Certo, oggetti da fotografare Allora, sicuramente devo fotografare l'acqua Cos'è? Oh Perfetto Perfetto, bella foto Allora, ora devo Aspetta, devo fotografare C'è l'impronta di una mano sinistra sul terreno Pare che sia enorme Non puoi man... Potrei venderle Mano sinistra? È la mano destra È la mano destra! Guardate È deficiente È la mano destra È destra È destra È fottutamente destra quella mano Vabbè Un tombino è stato scagliato Così forte Da fine incastronato sul muro Eccolo Eccolo Scusi Scusi, devo fare la foto al tombino Chiedo scusa Ah, vuole fare la foto pure lei? Va bene, no problem Sorrida Perfetto Siete troppo saporite Siete Yes Atto Mamma mia, sono un fotografo professionista Comunque questa qua è la mano destra Non sinistra Deficienti Vabbè Dopo aver detto ciò Ok No, aspettate No, no, no Voglio fare la missione Quella ficca di Spider-Man Oh, indirizzibile! Indirizzibile! Sì, vieni qui Ti arrivo Non ho permiso RB RB Ho visto un modo foco Salve! Ok Facciamo una bella Foto La ficca Quella è best in the world Quella Ho qualcosa di nuovo per te Scusi Che ne dici di una bella gara? Non rispondere Non mi importa la tua opinione Mi importa solo che tu porti le chiappe qui e subito Per farci vedere che oltre che ragno Sei un vero uomo Ok 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 Allora, devo andare a prendere Bengala 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 Avanti Sei timido o cosa? Bengala Non sono timido Non sono timido Sono velocissimo Mem 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 Era qui Bengala Bengala No 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 Deficiente Allora prendi il Bengala Mi piace Veloce 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 Maledizione Bengala Yes Si lo so che sono bravissimo Lo so Bengala Bengala Veloce Veloce Yes Si 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 Stai giitto Non mi rompere il cazzo Yes Non è una supercorsa questa? Non male Più o meno eh Ma adesso è una supercorsa Non esageriamo Cioè Una supercorsa Cioè Eh La superte La super sto cazzo Ah comunque raga Nell'episodio scorso Abbiamo finito i cosi Aspetta Possiamo poter Eh quanti messaggi La pepina Non c'ho voglia di cagarti Allora qui non posso fare niente Vediamo cosa abbiamo sbloccato E Che cos'è? Ingenti danni collaterali Mi interessa Resistenza ai laser Non è male Non posso comprare più niente Non posso comprare più niente Va bene Allora salviamo questo civile Salve signora Lo salvo io Lo salvo io Sì 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 Non rompere il calcio Ma è vicinissimo Ma che 2000 metri È vicino Non rompere il calcio È vicinissimo Ok salve Le salvo la vita Poi mi do un bel bacino Salve Eccoci qua Oh ma lì c'è un altro Di niente Di niente Di niente Poi mi do 10.000 euro Perché c'ho Non so perché Mi firma Ok Oh civile infetto Ti salvo io Salve Ma non volutare Che schifo Ah ma c'è un altro Eh vabbè Ma ce n'è uno Ogni 30 secondi Ce n'è Dai usa le ragnatele Yes Oh guapa Salve Allora salviamo pure Questo civile Perché stanno morendo tutti Ehi fate attenzione Bellissime le ragnatele Che si attacca Sono felice di essere a terra Oh 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 Aspetta Yes Ok Salve Un'altra sfida voglio fare Dai Proponimi qualcosa di figo Vediamo Dai 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 Un'altra supercorsa Dai Allora Che vuoi ancora amico Spero di sì Perché la fama non si ottiene Da nulla Che ne dici Che devo fare Di carti Su una Ah resta Ah resta Nell'inquadratura La ciambella gigante E non Inclusissima Che sembra dire Puoi darmi un morso Esatto Proprio quella A proposito Devo restare nell'inquadratura Che una tira l'altra Ah no Di che cazzo sta parlando Ok mi sto filmando Che devo fare Ah no no Spettacolare Hai visto No 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 Rimani qua nel buco Oh mi sono infilato nel buco E va bene Sverginiamo la ciambella E va bene Non parto Una passeggiata Giusto? Sì vabbè Ma Come è stato? Hai sverginato una ciambella Hai sverginato Oh raga No cazzo Ti prego fammi spawnare Spawnarmi Ora gli rovino la festa Ah porca vacca Raga Ah ok 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 Mi hanno detto Che qua c'è un ragno Sì abbiamo 1066 Civile e camici dell'ospedale Che vorrei conoscere Quella fa Rimediare Questo disastro E ordina sempre Ah no Vorrei conoscere Vabbè senti Tu hai bisogno di una mano Eh Ok Sì 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 Ora puoi lasciarmi andare Da qui vado da soli Che cos'era quella cosa? Una luce Vabbè io vedo una luce Sì Eh dai Dov'è il parcheggio? Parcheggio Eccolo lì il parcheggio Ma raga Ricordi? Ehi Albe Raga ma mi sa che non devo Fotografare dei rani Perché mi pare che lì ce n'era uno Mi sa che sta cosa dei rani Un po' una cazzata almeno Boh poi non lo so raga Vedremo Vedremo Lo scopriremo solo vivendo Perché ora che ci penso Abbiamo sbloccato un costume Che ancora dobbiamo andare a vedere Però prima Voglio Voglio salvare tutti questi tizi Salve Ti salvo tutti Tutti Sì Andiamo Non ho capito sinceramente Come cazzo funziona Però Ok Sì sì Guarda 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 Frenato Di niente Di niente Non cadarmi il cazzo Allora Civile in fetto messa al sicuro Mamma mia Che l'ho messa in bando Voglio fare per me un'altra missione Con il coso Allora Lì devo andare a fare delle foto Sì vabbè Il dirigibile è troppo lontano Va bene Andiamo per di là Andiamo a fare le foto Mi piace troppo fare le foto Raga è bellissimo Sì 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 Non ero per rifusione La festa Salve Mamma mia raga Oh eccola le foto Eccole là Salve Ah devo fare le foto sopra il palazzo Ok Ok Ora ricordo Devo scattare qualche foto Allora Devo fare sicuramente la foto Asciuto ombrellone Scatta una foto al cestino del pranzo Anche a quel nido Riguardo alla melma Basta una foto Niente campioni Grazie Ci siamo Ok Bello Scatta la foto al cestino del pranzo Mi domando come cazzo ci sia finito qua Ma Vabbè Facciamo una foto alla melma Ok Che portfolio Vabbè Vabbè Ok basta Allora scattiamo una foto Al nido È un nido Bellino Bellino Bellissimo Perfetto Adesso vediamo dov'è la foto Ah dovremmo fare questo Indagare sui problemi nelle fogne Eh vabbè raga Guardate quanta gente che c'è da salvare Troppi chistiani Devo andare ai laboratori a salvare Corri Eh vabbè la foto là Devo andare la peppina Cos'è questo? Ah in seguente nell'auto Va bene ok Salviamo qualcuno Vediamo allora raga se c'è Oh oh Giornaletto Oh oh Ok Perfetto One momento Dovrei Prendiamo quello che vola Perché ogni volta Mi lascio scappare Quelli che volano Ok Prendiamo questo Uh oh Yes Adesso si ragiona No 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 Ti prego ti prego Non c'ho voglia Me lo vuole Aspetta Sali 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 Ok salta Salta Ok perfetto Salve Allora ce n'era uno là Ok Eh vabbè la peppina Quanti giornali Quanti giornali raga Eh li prendo tutti Li prendo tutti Mi odierete tantissimo Mamma non mi interessa Mi odierete tantissimo Quanti giornali Ma lì ho quanti Mamma mia Ah Giornali everywhere Attenzione Ah bene Si lo so raga Ne ho saltato il mille mila Lo so eh Allora ce n'è uno Ce n'è uno Ah no era semplicemente Una luce Mannaggia la zozza Ok Allora ce n'era uno qua Ok ce n'era uno qua Ovviamente Ah eccolo là Ok salve Ok Un altro là Salve Ok Altri mille mila là Te li meriti Che cosa hai fatto Non mi niente hai fatto Aspetta andiamo a prendere Ce la fa Nooo Vabbè vai Guardi là Oh yes Ok perfetto Presi Ok Finito raga Allora Adesso dovremmo fare Una bella roba Guarda cosa c'è Spiderman che mi salta Con un deficiente da solo eh Vabbè ok Allora aspetta Il tizio Eccolo là Salve Sì 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 Resta lì Ok Ti utile Fai qualcosa Oh raga ok In vicino raga Ok Voglio salvare Prima però prendiamo i fumetti Poi può morire Ok Salviamo un'altra tizia Salve Che schifo Ma no Ma vai via Vai via Yes Prende il fumetto Poi Dov'è il fumetto Dov'è il fumetto C'è la sita rb Per prendere il fumetto Era questo Ma non ho indicato qua io eh Io non ho indicato qua eh Infatti Raga Ma come hai tutti sti fumetti C'è la peppina Ma quanti fumetti ho preso Scusatemi Allora Sono a 471 Eh la peppina 471 fumetto Prendiamo qua Oh yes Lo so raga Mi sta odiando tantissimo Lo so ma Ma lo voglio Voglio prendere tutto quello che trovo Ora capite Scusa Lo so Mi odiate Sono la stessa persona Però Che è capito Allora Questo episodio lo farò un pochettino Più lunghietto del solito Va bene Ok Visto che è bravo Perfetto Bravo Pepo Schiaffo sulla mano Allora Andò Prendi il fumetto No 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 Ok no Meno male L'ho preso Allora Eeeh Dov'è il tizio che sta male Sta là Metto Ma qua non ci sono mai passato Scusate no Perché tutti sti fumetti Boh Vabbè Comunque Dov'è il tipo che sta morendo Eccolo là Non ti devono lasciare l'area No no Rappare il cazzo Ok Dai corri Corri non così Preferibilmente Cioè Ah ok Arrivo Oh fumetto Scusami nato Prima prendiamo il fumetto Poi pensiamo a salvarti Perché altrimenti Poi non li prendo più Allora Prendiamo qua O leggere Eppure io ho sempre amato a leggere Non ne vero mai nella vita Ok no Questo lo prendiamo dopo Perché abbiamo il tizio Sopra Cicco Ci fanculo il mondo Ok Ok Eh dai la pepina Potresti rallentare un pochino Sì non rompere le palle Ha delle unghie molto affilate Sì 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 Come dice tu Non posso mai di pagarti Lo sai Ora che senti il rumore di fumetto Ora lì ci ritorniamo Allora era qua vicino Eccolo là Ok Salve Resa A voi se ne falsa la pena Cioè Ce l'avevo sentire Il rumore di un fumetto Era quello I don't know Devo farlo di nuovo Cosa prendo un altro fumetto Eh lo so Otterremo soltanto Tanti disiscritti Vabbè dai raga Dai raga Pure a voi piace prendere Raga comunque seriamente Se giocate pure voi A questo gioco Vedrete quanto è Normale Cioè vederli e prenderli Perché è bellissimo Vederlo saltare Fare Dire E caccapupu Quindi Salve Ok Dai La salvo io Signori La salvo io E vi prometto che Dopo andiamo in missione Non dopo questo C'è dopo Va bene Ok dai Dopo dopo Dai 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 Dopo Che cazzo sto dicendo Non lo sto dicendo nulla Ed eccoci qua Non mi piace No Devi provare ogni tanto Eh Allora Vediamo cosa dovrei fare Teoricamente Ma si andiamo a fare La missione delle fogne Dai 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 E a fine episodio Andremo a vedere i costumi Sì Lopido Pagina di fumetto Eccolo là Ok Salve Ok Cos'è Dunque raga Vedete che non lo faccio apposta Mi appaiono davanti Cosa abbiamo qui Eh non lo faccio apposta Cioè ve lo giuro eh Lo prendo Dai me li mettono davanti Guarda Io giuro non li voglio prendermeli Mettono davanti Lo giuro E E E L'altro me che li vuole prendere Non sono io Quanti Comunque quanti fatti siamo Guarda 483 Ok Va bene Aspetta dove sono le fogne Eccole qua le fogne Salve Entri Entra nell'impianto Entra Aprire Normalmente No E devi spaccare tutto Impianto Trattamento Acqua Chiedo scusa Le autorità Che Che Giuro non volevo spaccare tutto Però lui è spiderman Quindi Fa figo spaccare tutto Ehehehe Va bene Mentre il caricamento Dobbiamo fare qualcosa Quindi ok Nel momento che è carica vi racconterò della storia di maggio La storia di maggio Allora la storia di maggio è un amico mio che si chiama maggio Infatti ogni mese Ogni mese questa ragazza cambia nome Infatti Lui è stato male a maggio Quindi l'ha passato a letto Quindi ha dormito Infatti a giugno Lui andava in giro a dire che si chiamava maggio Non è bene Una puttanata Non so più che cazzo dire Ma i caricamenti sono all'ordine del secondo Ok Abbiamo aggiustato il microfono Il gioco sta caricando Vorrei capire che cazzo sta caricando Cioè mi scusi Mi scusi signorina 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 Stai caricando l'impianto trattamento acque Non bere dell'acqua È avvelenata Ah non bere quell'acqua è avvelenata Tutta L'origine dell'attacco biologico Sembra essere l'impianto di trattamento Delle acque Scorri opinioni dei new yorkiesi Ah queste sono le opinioni dei new yorkiesi Ho letto in basso Scorri suggerimenti Ok Sono stato morso Cosa devo fare Aiuto Mia moglie è scombarsa Aiuto Non siamo ancora morti Capito Gente di maraton Ok finito di caricamentare Due ore per scendere queste cazzo di scale C'è la peppina eh Che devo fare? Devo fare delle foto? Bio capsule Oh Scorp Crio cap Presenza di una squadra specializzata Ah ok Perfetto Ok camminiamo Qua Allora Fragile No ok va bene Prendiamo qua le cose Ok Ma non sono un ragno Sono un drago Sono un drago Mi chiamavano Draginator Dorme